K. Legora Giovanni nasce a Torino il 22 novembre 1887. Laureato in giurisprudenza, frequentò in 4 i 6 anni di studi all'Accademia Albertina. Trattando la figura ed il paesaggio ottiene vari attestati e medaglie d'oro e d'argento. Esordì nel 1920 con «Ritratto» e «Paese» alla promotrice. Nel 1926 espose alla I quadriennale in Torino, tra stoffe e collane, e lo stesso quadro alla Mostra Nazionale del ritratto femminile in Monza nel 1927, con largo consenso di pubblico e di critica. K. Legora Giovanni si spense a Stresa nel 1980. K. Legora Giovanni si spense a Stresa nel 1980.